Il clangore delle macchine Un rumore operaio che entra nel sangue Il rombo dei motori che pompa adrenalina Sfocia in un suono Quello di una città e della sua anima metallica Dura, forte, fatta di tecnologia Catene di montaggio e contrasti sociali Il ritmo della Detroit anni Ottanta Viene chiamato Technologic Perché creato con strumenti tecnologici È la nascita della musica tecno Movement, il festival tecno più importante del mondo Acquista il tuo accredito Viaggio e hotel Su electroniccommunity.com La storia del Movement Il festival tecno più importante al mondo Un programma di Roberto Molinaro Questo è stato un barbato